Io non le ho fatte tutte e sette, ma c'è chi se ne è fatte tutte e sette ed è un bel traguardo. Penso che sia una delle prime feste fatte dal Movimento 5 Stelle, organizzata da un meetup e siamo orgogliosi di questa festa che continua a raccogliere e ad essere un momento di attivismo. L'attivismo comunque per noi è stare tutti insieme, ritrovarsi, partecipare. Cos'è il Movimento 5 Stelle poi alla fine? Sono persone che non si conoscevano, però sono persone per bene e si ritrovano grazie a Beppe Grillo, grazie a questo sogno che è il Movimento 5 Stelle, che è uno strumento che ci permette di partecipare e di entrare nelle istituzioni. Come è successo a me e a Jessica, che quest'anno siamo entrate in Comune alla Spezia, la prima volta per tutte e due, ed è dura. Ed è dura perché, come ha scritto Beppe Grillo qualche giorno fa, il consigliere comunale è il mio eroe. Effettivamente ti trovi a combattere con tutti, sia con chi hai in opposizione con te che chi in quel momento è maggioranza. Noi quest'anno abbiamo una maggioranza nuova, che è una maggioranza di centrodestra, dopo anni e anni di centrosinistra, che ha sempre governato questa città, la Spezia, e quindi ci troviamo in opposizione con quelli che abbiamo combattuto fino a ieri, che erano invece la maggioranza. Chiaramente non condividiamo proprio il metodo che hanno. E rischiamo quasi di essere omologati comunque, perché i giornali, i mezzi di informazione parlano di opposizione tutta insieme. Dall'altra parte ci troviamo un governo nuovo, un'amministrazione nuova, persone nuove, quasi tutte, proprio anche nuove, nel senso che ci sono molte persone che non hanno mai partecipato all'amministrazione della città, però il sistema è quello. L'abbiamo già visto con la corsa che stanno facendo per le nomine nei CDA di ACAM, di ATC Mobilità e Parcheggi, e l'altra partecipata, Spezia Risorse, dove il sindaco ha chiesto immediatamente le dimissioni dei due amministratori delegati, e niente, quindi si deve fare le corse per sostituirli e tutti abbiamo il dubbio che poi alla fine non si è parlato di azienda, non si è parlato veramente del futuro che vogliamo per queste due partecipate, ma interessi proprio forse il posto, quel posto per mettere persone di propria fiducia. E' il sistema, questo è il sistema, ieri sera l'ha detto chiaramente il consigliere regionale Costa, che è consigliere regionale in regione Liguria, però sta anche in consiglio comunale a Spezia, insomma controlla il territorio. e l'ha detto, ha detto ma senza vergogna, nel senso che poi io rimango anche un attimo a sentirmi dire, vabbè ma siamo tutti politici, veniamo tutti da un partito e sappiamo benissimo che nei posti chiave il partito deve mettere persone di propria fiducia. no, mi sono alzata perché, prima di tutto per una questione di non essere omologati che insomma parlavano le altre opposizioni e poi, no perché, devi dare fiducia ai cittadini, devi dare fiducia a un cittadino per bene che presenta un curriculum, che sia una persona libera, che sia una persona capace, che abbia il merito. questo paese il merito non è riconosciuto a nessuno, perché poi vediamo tra i banchi appunto gli assessori come sono stati dati, gli assessorati sono stati dati in base ai voti delle singole liste abbiamo tre che rispondono alla Lega Nord, uno della lista Costa, uno di Forza Italia sono tutti così, sono stati dati, purtroppo hanno avuto il problema che non avevano una persona competente sul bilancio si è tenuto il sindaco la delega al bilancio, che è gravissimo, perché insomma, secondo noi il bilancio di un comune è fondamentale e forse ci voleva una persona che sapesse anche probabilmente lui lo sa leggere un bilancio, non è quello il problema, però doveva essere un assessore mirato che facesse anche un lavoro con le commissioni lasciare questa delega importantissima al sindaco, secondo noi non è giusto hanno messo all'urbanistica una pensionata che era dirigente dell'agenzia del territorio hanno avuto queste prendere delle persone e piazzarle a seconda della gente che è stata eletta comunque come consigliere comunale e accontentando un po' tutte le liste e coprendo i buchi fortunatamente c'è la legge del Rio che ha diminuito gli assessori a 9 perché se no ne avrebbe fatti 11 per accontentare tutte le liste, più l'apparentamento di guerri che ha fatto sì che potesse trattare il suo posto da segretario del comune del consiglio comunale il segretario del consiglio comunale guadagna più di un assessore diciamo che noi li guardiamo con attenzione, li osserviamo perché speriamo c'è un fondo di dire forse sono diversi per ora questa diversità non l'abbiamo notata perché si comportano esattamente nella stessa maniera spartendosi le poltrone e entrando a gamba attesa di prepotenza nel sistema perché vogliono spaccare, levare quelle teste messe dalla precedente amministrazione e metterci loro poi alla fine quindi fiducia ai cittadini non ne viene data, non viene data riconoscimento al merito vediamo anche in regione i bandi come li fanno, mirati già con dei requisiti che già si sa che andrà a occupare quel posto però chiaramente noi non dobbiamo essere prevenuti verso questa giunta e vedremo se ci lasceranno degli spazi di democrazia parlano di trasparenza, vedremo se applicheranno finalmente un po' di trasparenza e quindi questo è stato il nostro primo impatto in questo consiglio comunale ci sono molti giovani e questo è un bene però insomma li vediamo già assoggettati loro accettano questo sistema mentre invece secondo me i giovani dovrebbero ribellarsi a questo sistema perché è un sistema che ci ha portato nelle condizioni in cui siamo è un sistema che è perdente perché l'abbiamo visto cosa ci sta portando questo sistema di coprire, mettere nei posti di comando persone che dicono sempre di sì, persone che non sono libere di dire no di dire la propria opinione e di essere anche capaci di tenere il punto e quindi fare il consiglio comunale è veramente essere un eroe veramente perché è scontrarsi con questa gente qua passo la parola a Jessica che è entrata con me in consiglio sì così, no no, anche perché abbiamo fatto le prime due interrogazioni, numero uno e numero due le abbiamo fatte noi, gli altri sono ancora in vacanza o stanno pensando alle vacanze e niente, quindi adesso do la parola a Jessica io questa volta mi sono portata al fogliettino perché l'emozione mi tradisce a questo giro e quindi ho preferito scrivermi tutti i concetti che ho voglia di dirvi questa sera intanto ringrazio tutti di essere qua e voglio utilizzare questo tempo per ringraziare un'altra volta chi ha deciso di mandare un consiglio comunale me è Donatella e quindi ci ha dato la propria fiducia è un privilegio per me essere in consiglio comunale lo è ancora di più sapere che le persone hanno deciso di usare la nostra voce per esprimere le proprie parole noi ovviamente non tradiremo mai questa fiducia ci siamo prese questo impegno, saremo le portavoce, parlo a nome di entrambe saremo le portavoce di chi ci ha votato e di chi non l'ha fatto senza differenza alcuna ci siamo prese questo impegno che è un impegno da parte mia perché era il momento di passare al fare e non solo al dire è un impegno gravoso come dice Donatella perché ci troviamo un pochino a combattere anche contro i mulini a vento e per questo avrò bisogno di tutto l'aiuto e assolutamente di tutto il sostegno possibile il lavoro che intendo fare in consiglio comunale è quello di una ferma opposizione sicuramente però vorrei anche portare fuori dal consiglio, fuori dal comune tutto quello che c'è all'interno, tutto quello che c'è all'interno della scatola comunale appunto e quindi vorrei lavorare nella massima trasparenza e nella massima partecipazione ieri sera come diceva Donatella c'è stato il consiglio comunale questo consiglio comunale si è disposto appunto sulle nomine per queste due partecipate quello che abbiamo chiesto noi era una cosa molto semplice abbiamo chiesto di dare il segno del cambiamento che la maggioranza aveva promesso in che modo? Non nominando subito gli amministratori ma aprendo un bando pubblico proponendo una sorta di commissione creata con dei tecnici, degli esperti che avrebbero valutato in un primo istante i curriculum arrivati li avrebbero poi passati al consiglio comunale e infine al sindaco che aveva assolutamente la capacità di scegliere tra questi curriculum questo ovviamente è stato bocciato dalla maggioranza però è stato un po' un circo degli orrori a mio avviso cioè non si è dibattuto sul merito della questione ma su chi aveva proposto o firmato la questione quindi ci è stato detto come diceva Donatella non stiamo dicendo che questo sia giusto o sbagliato stiamo solo dicendo che avendolo proposto voi di minoranza noi lo rifiutiamo ecco noi faremo un'opposizione come ho detto prima sempre ferma ma se ci saranno dei momenti in cui quello che verrà proposto da chiunque sarà giusto lo valuteremo come giusto non faremo un'opposizione a prescindere solo per partito preso non faremo cacciare non faremo cacciare faremo il nostro ok mi... a guerri cacciare a guerri guerri cacciare renderò conto di tutto quello che faremo a tutti attraverso magari streaming richiedendo uno streaming sempre anche del Consiglio Comunale e cercando di portare come dicevo prima fuori tutto quello che faremo dentro e tutto quello che faranno dentro che è ancora più importante probabilmente comunque ringrazio tutti adesso c'è un bellissimo evento a seguire quindi vi invito a rimanere grazie applausi applausi applausi